Allora, facciamo questo esempio. Per Aristotele la conoscenza è sempre una conoscenza concreta dell'ente individuale. Non si conosce il cavallo in generale, non si conosce l'idea del cavallo, si conosce il singolo cavallo, si conosce il cavallo individuale, proprio quel cavallo lì. No, perché vi ricordate, per Aristotele la base della conoscenza è l'esperienza. Ecco in che modo rovescia il paradigma di Platone, no? Rovescia il... Ma sta registrando? Cosa? Sta registrando la lezione? Sì, sì, certo. Sì, poi la metto, la metto su YouTube, ok? Poi ve la metto in didattica, come sempre, no? Ok. Ok, grazie. E quindi appunto, questa è un po' la differenza, è la differenza importante. Ora, diciamo che noi quello che abbiamo fatto fino adesso sono di esaminare alcuni brani del libro primo della Metafisica, del libro quarto, del libro quinto e del libro nono. Ora, se ci soffermiamo sul libro nono, e poi appunto, ripeto, se voi vi andate a guardare le lezioni precedenti potete riuscire a colmare un po' il vuoto tra l'introduzione che abbiamo fatto e questa lezione che stiamo facendo adesso. Però poi, ripeto, lo facciamo insieme. Il libro nono è un libro importante. Perché? Perché nel libro nono Aristotele definisce la potenza e l'atto. Definisce la potenza e l'atto. E c'è da fare una premessa. In che modo definisce la potenza e l'atto? In generale, tutti i concetti che Aristotele svolge sono concetti che provengono dalla fisica, dai libri della fisica. Vedete? Anche qui, questa interpretazione del pensiero di Aristotele non è un'interpretazione canonica. Cioè, voglio dire, gli interpreti di Aristotele, come potete immaginare, sono stati parecchi nel corso dei secoli. Però tendono a interpretare la metafisica, tendono a interpretare il pensiero di Aristotele solo ed esclusivamente in termini metafisici. Mentre invece, quello che è importante osservare è che tutti i concetti di Aristotele o i più importanti concetti metafisici di Aristotele, compreso quindi il concetto di potenza e il concetto di atto, hanno tutti una base o una dimensione fisica. E in particolare, la dimensione in cui si trovano è quella del movimento o quella del principio di movimento. Per esempio, prendiamo un concetto, un altro dei concetti importanti, poi ritorniamo a potenza e atto. Il concetto di causa in Aristotele, Aristotele definisce quattro tipi di cause. Causa formale, causa materiale, causa come principio di movimento o di trasformazione e causa finale, come fine o bene. Allora, vedete, anche nel concetto di causa, noi che cosa abbiamo? Abbiamo una base di tipo fisico, una concettualizzazione di tipo fisico, cioè la causa viene anzitutto considerata come causa di movimento, come un principio di movimento all'interno di una processualità che è davvero di tipo fisico, cioè causa, per esempio, per Aristotele, in uno degli esempi che fa, è un certo ente che muove un altro ente. E questo è... Cioè, una causa è qualsiasi cosa che comunque, essendoci, fa scatenare una reazione in qualcuno. Nel senso di un processo, nel senso che una causa per determinare un certo effetto ha comunque dentro di sé, diciamo così, una facoltà che è quella appunto di essere qualcosa che trasforma o qualcosa che produce degli effetti. E però la sua essenza, possiamo dire, la sua natura proviene sempre da qualcosa di fisico, qualcosa che ha a che fare con il movimento come un principio generale, no? Di forma di tutte le cause. E appunto, anche nel caso della potenza e dell'atto, che cosa vuol dire potenza? Potenza è possibilità, no? E in Aristotele potenza è un concetto fondamentale, no? Allora, potenza è ciò che è possibile, no? Questa secondo, diciamo, una comune significato del termine potenza. Però in Aristotele intanto, appunto, abbiamo una grande differenza, e cioè Aristotele parla di potenze attive e potenze passive, e parla di potenze razionali e potenze irrazionali. Allora, capite bene che potenza attiva, potenza passiva, che cosa vuol dire? Una potenza come facoltà di produrre degli atti sarà una potenza attiva, no? Però c'è anche una potenza di ricevere, quindi una potenza ricettiva, che noi possiamo chiamare passiva. Ora, anche qui, qual è il punto? Che intanto noi abbiamo diversi tipi di potenze in Aristotele, no? C'è proprio un elenco, se volete, di potenze, cioè di modi in cui noi possiamo concepire, in cui noi possiamo pensare la potenza. E la cosa importante è che esiste un certo tipo di potenza, che è quella per Aristotele più importante, che è una potenza che ha la possibilità, diciamo così, è una possibilità che si orienta in entrambe le, come possiamo dire, in entrambe le condizioni, cioè mi spiego, esiste una potenza che fa esistere, cioè che realizza, che porta all'atto, ma esiste anche una potenza che non realizza, una potenza, se volete, passiva nel senso non tanto ricettiva, ma che non realizza, e che però esiste lo stesso. Cioè, quello che voglio dire, lo dico in maniera più chiara, la potenza attiva è la potenza in sé per sé, ma il fatto che esistono delle potenze che non realizzano atti, queste potenze esistono lo stesso in quanto tali, anche se non realizzano atti. Quindi esistono, ma sono delle potenze che rimangono in potenza. Non so se è chiaro in questa... Ecco, allora, per esempio, la facoltà di linguaggio, la facoltà umana di linguaggio, che cos'è? È una facoltà che è nello stesso tempo, e appunto qui Aristotele, per esempio, la può chiamare sia una facoltà passiva, ma anche una facoltà razionale, poi vedremo la differenza fra razionale e irrazionale, però la facoltà di linguaggio che cos'è? È la facoltà che noi abbiamo, che diciamo gli esseri umani tutti quanti hanno, ma questa facoltà può realizzarsi in atti di linguaggio, ma può anche non realizzarsi in atti di linguaggio, ed esiste lo stesso, perché tutti quanti abbiamo la possibilità di parlare anche quando non parliamo. Ecco, allora, questo è importante. Perché è importante? Capite da soli perché è importante? Perché il concetto di potenza in Aristotele non è un concetto univoco, ma è quantomeno un concetto che ha sempre una biforcazione. C'è una concettualità in Aristotele in cui noi abbiamo sempre una qualcosa che agisce e qualcosa che pagisce. Allora, qui qual è la differenza tra i diversi tipi di potenza? Appunto, la differenza è quella che Aristotele, per esempio, considera come le cosiddette potenze razionali e potenze irrazionali. E dice, quali sono le potenze razionali? Le potenze razionali sono quelle che da possibilità realizzano degli atti e in qualche modo queste possibilità non si trovano all'interno della loro realizzazione. Cioè, anche qui, il principio qual è? Ora vi dico in maniera chiara. Il principio qual è? Il principio è che esistono degli enti che si muovono da sé, vedete il principio fisico, ed esistono degli enti o degli esseri che sono mossi da altro. Eccola qua la differenza. E anche qui, no? E questo in qualche modo ribadisce un po' quello che dicevamo a proposito della causa, no? La causa di sé è la causa di altro. La causa di sé, per esempio, è la divinità, no? Causa sui, causa di sé, no? E poi la divinità però è anche una causa finale perché dal luogo realizza. E qui esiste una potenza, diciamo, per sé, e una potenza che realizza qualcosa. Quindi è qualche cosa che ha a che fare direttamente con le conseguenze, quindi che realizza atti, no? O che attua. Ma esiste anche una potenza che non attua e che rimane comunque potenza. Allora, potenze razionali e potenze irrazionali. Quali sono le potenze razionali? Le potenze razionali, dice Aristotele, sono quelle che stanno all'interno della razionalità umana, no? E allora, per esempio, gli animali non avranno potenze razionali, ma soltanto potenze irrazionali. Che vuol dire questo dal punto di vista delle possibilità, no? Le potenze razionali sono quelle che hanno a che fare con una realizzazione, no? Di qualcosa. Le potenze irrazionali sono quelle, per esempio, gli istinti, no? Gli istinti sono questo tipo di potenze razionali. Dite. No, ho detto che stavo pensando esattamente alla parola istinto. Sì, sì, questo è un po' la differenza, no? E quindi, allora, vedete anche qui, però si tratta sempre, questa è la cosa importante, che si tratta sempre di possibilità. Potenza come possibilità. Aristotele dice la potenza è quella facoltà che non è impedita da niente, cioè non ci sono ostacoli. Vedete anche qui c'è una immagine proprio fisica, no? La potenza è quella facoltà, è quella possibilità. La potenza come possibilità è tale, esiste come tale nel momento in cui o nella misura in cui non ci sono ostacoli alla sua realizzazione, o alla sua esistenza, meglio, più che alla sua realizzazione, no? Quindi vedete anche qui. Ritorniamo un momento sulla differenza tra i vari tipi di potenze. dice, ci sono delle potenze in sé, ci sono delle potenze che si acquisiscono tramite l'esercizio e ci sono delle potenze che si acquisiscono tramite l'educazione. Allora dice, le potenze in sé sono appunto quelle dei cinque sensi, i cinque sensi, tatto, vista, odorato, gusto, udito, queste sono le potenze che non si acquisiscono perché sono delle facoltà, no? Delle facoltà umane, delle facoltà dei cinque sensi, sono queste. Poi dice, ci sono delle potenze che invece sono acquisite, cioè sono acquisite con l'esercizio e fa l'esempio del suonatore di flauto, quindi tutti coloro che per esempio imparano uno strumento, no? Dice, poi ci sono le potenze che si acquisiscono attraverso uno studio o comunque attraverso una certa disciplina, le arti per esempio. Ora qui, che differenza c'è? Non è che c'è molta differenza. Qui più che le arti possiamo dire, perché per Aristotele le arti sono anche tutte le arti che hanno a che fare con lo studio vero e proprio, no? Quindi a differenza dello studio musicale, cioè del sapere suonare uno strumento, tutte quelle scienze teoriche, tutto quello studio appunto, no? E quindi allora noi abbiamo questi tre tipi di possibilità, no? Quindi qui qual è il ragionamento che fa Aristotele? È, le prime sono delle facoltà e sono le facoltà umane, no? Che tutti quanti gli esseri umani hanno. E poi invece le seconde potenze, le terze, cioè quelle che si acquisiscono con l'educazione e con l'esercizio sono appunto possibilità che noi acquisiamo nel momento in cui, dice Aristotele, abbiamo qualcosa che le precede. Qual è questo qualcosa che le precede? E appunto è l'esercizio, no? L'esercitazione. Ora però fate attenzione qui. Questo qualcosa che le precede, in realtà, che cos'è? È una facoltà, perché se noi non avessimo la facoltà di studiare, cioè se noi non avessimo la razionalità, questo poi è, no? Allora noi non potremmo esercitarci. Quindi, come vedete, diciamo anche questo, per esserci una possibilità nel senso di una potenza di fare qualcosa, c'è bisogno sempre comunque di una potenza in sé per sé, cioè di una facoltà che ci permette di rendere possibile. Quindi, come vedete, anche qui c'è, come possiamo chiamarla, una diversa gradazione della potenza, del concetto di potenza. Ora, passiamo al concetto di atto. Il concetto di atto, dice Aristotele, è il concetto che noi applichiamo a tutto ciò che si realizza. Quindi l'atto che cos'è? È la realizzazione della cosa, no? È il momento, è la realizzazione che, per esempio, porta all'esistenza le cose, no? Porta all'esistenza gli enti. Ora, però, fate attenzione anche qui. Se vi ricordate quello che abbiamo detto poco fa, non tutti gli atti, non tutta la realizzazione può esistere. Esiste anche un qualcosa, una potenza, che non si realizza. Allora, qui questo, in termini dell'attualità, in termini dell'atto, che cosa significa? Che l'atto non realizza interamente la realtà, possiamo dire. Esiste anche una realtà che non si realizza e che è una realtà in potenza, vedete? In potenza. Allora, che cosa c'è qui di importante da dire a proposito dell'atto? Abbiamo detto che, per Aristotele, potenza è tutto ciò che non... che si... è quella facoltà che si può realizzare in atti se non c'è niente che impedisca questa realizzazione. E allora l'atto che cos'è? L'atto è qualcosa che precede, dice Aristotele, la potenza. Che vuol dire che l'atto precede la potenza? Allora, lo precede in senso logico. Qui c'è un po' una difficoltà, no? Noi, fino adesso, abbiamo parlato di potenza, abbiamo detto che la potenza, in qualche modo, per esserci un atto, ci deve essere una potenza che precede. Ora, qui Aristotele perché dice che invece l'atto precede la potenza? È proprio perché inverte il ragionamento e dice che per esserci qualcosa in potenza ci deve essere un atto che... cioè ci deve essere qualcosa di realizzato, no? Qualcosa che esiste come realizzato e che lo fa essere in potenza. Allora, anche nel caso delle facoltà umane, giusto? Che cos'è questo atto che dà luogo alle facoltà umane e quindi ha le possibilità? L'essere umano stesso, cioè l'esistenza... Eh, sì, il vivere, no? Il vivere come esseri umani, o il vivere come animali. Ecco in che modo, dice Aristotele, l'atto precede la potenza. Come l'atto di esercitarsi che permette... Che permette la possibilità di suonare, che permette la possibilità di suonare, che permette la possibilità di suonare. Non lo capito bene. Per esserci una potenza, cioè per esserci una facoltà, per esserci una possibilità, ci deve essere un qualche atto che la precede, nel senso, ci deve essere un soggetto che è reale esistente, o esistente come reale. Altrimenti tu non hai nessuna possibilità. E siccome la potenza è quella... Quell'essere come facoltà che può diventare atto, che può realizzarsi a patto che ci sia qualcosa che non lo impedisce, questo qualcosa che non lo impedisce, in senso logico, è proprio l'atto che precede, oltre ad essere l'atto che può seguire o non seguire la potenza. Cioè la priorità per Aristotele dell'atto sulla potenza dipende ancora una volta dalle possibilità di esistenza dell'atto stesso. Allora, se non esiste l'atto, cioè se non esiste la realizzazione di un qualsiasi ente, se non esiste, diciamolo in maniera ancora più precisa, se non esiste la realizzazione di quell'ente individuale, quel singolo essere umano, quel singolo essere umano non può, vedete la potenza, non può avere né facoltà di parlare, di linguaggio, né facoltà di pensiero, né cinque sensi, né non può avere alcuna potenza. Quindi in questo senso, in senso logico, ma anche in senso ontologico, l'atto per Aristotele precede la potenza. Ora, come descrive, come nomina Aristotele l'atto? lo chiama entelechia. Ora, che vuol dire in greco entelechia? Come si può tradurre? Ecco, entelechia vuol dire proprio essere in atto. Quindi ora dici, vabbè, ma allora, cioè non è una spiegazione questa. E in effetti il termine greco entelechia in italiano non si traduce, è difficile da tradurre. Calcolate però che un termine simile dal punto di vista del concetto è energeia. Che vuol dire energeia in greco? Essere in atto. No? Energeia è quell'essere in atto e per Aristotele ogni ente che è in atto ha una finalità, ha un fine. È in atto per un fine, tant'è vero che una delle determinazioni dell'atto, quindi uno dei concetti sotto cui noi possiamo definire l'atto è l'atto come fine. Energeia è proprio davvero l'essere in atto che comunque per Aristotele è sempre finalizzato. Ma quindi non c'è differenza tra entelechia e energeia? No, non c'è quasi differenza. C'è una differenza ovviamente come vedete di termine, no? Sono termini diversi. Però noi li possiamo quasi identificare. Quasi perché in realtà è difficile da tradurre in italiano entelechia. Noi di solito questa entelechia lo possiamo tradurre con qualcosa che ha a che fare con la finalità, no? Con la finalità degli enti. però in realtà qui la finalità noi lo dobbiamo intendere all'interno di questa definizione dell'atto e cioè come realizzazione qualcosa che si realizza, Energeia e poi il termine italiano energia che è evidentemente una corruzione di questo termine greco energeia, no? È una riduzione, no? Energia che vuol dire energia in linea generale vuol dire quella capacità come forza realizzata che ti permette di muovere vedete anche qui di muovere determinate cose o determinati e questo essere in atto come Energeia in Aristotele ha proprio questo significato, no? La differenza probabilmente tra Energeia e entelechia è che entelechia sposta più il significato sulla finalizzazione, no? che ogni ente per Aristotele è un ente che ha una finalità e poi lo vedremo che questo ente che ha una finalità per Aristotele è il bene cioè per Aristotele fine o bene sono quasi esattamente la stessa la stessa cosa, no? Possiamo dire e questo è importante perché appunto come potete immaginare la concezione che Aristotele ha della natura è proprio di una natura che in tutto e per tutto è finalizzata, no? E ogni essere di natura che sia animato che sia inanimato è finalizzato, no? E questo coincide diciamo con il bene con il bene in generale e con il bene anzitutto individuale questo questo è il il la differenza e questo è un po' il tipo di ragionamento che dobbiamo fare va bene io mi fermerei qua per ora e niente va bene facciamo così che prendiamo un appuntamento per la prossima volta che potrebbe essere ditemi anche voi domani va bene a mercoledì mercoledì prossima a questa ora qui alle nove e mezza per forza seguire l'orario curriculare no infatti quindi diciamo che ci rivediamo mercoledì che giorno è ma ci sono già le vacanze quando iniziano? quando inizierebbero le vacanze di Pasqua? no tra due settimane sono no il nove allora ma io non credo che cambia le vacanze di Pasqua che cambia le vacanze nel senso non ci colleghiamo su Zoom e beh sì dai cioè nel senso voi avete magari modo cioè magari di riguardarvi un po' alcune video lezioni no però direi che insomma e poi invece se voi volete se voi volete fare durante le vacanze delle lezioni di movimento o quello che volete o farci anche due chiacchiere basta che mi fate un messaggio noi ci colleghiamo e ci facciamo due chiacchiere e ci prendiamo un caffè virtuale insieme ok? sì va bene? certo dai allora un abbraccio a tutti quanti è stato bello e ci ritrodo ciao 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 ciao